salve a tutti in questo video vediamo come catturare gli insetti su breath of the wild catturare gli insetti è essenziale non solo per avere più ingredienti nel nostro inventario ma anche per completare alcune missioni quindi vediamo come fare mentre andiamo in giro avvisteremo degli insetti non appena lo facciamo dobbiamo acquattarci è solo così che riusciremo a prenderli quindi ci muoviamo verso di loro e poi li prendiamo in questo modo quindi ancora prendo anche questa cavalletta pian piano ed ecco fatto vediamo anche su altri insetti ad esempio farfalla vado pian piano ed ecco la presa oppure una libellula eccola qui prese quindi semplicemente acquattarsi tutto lì spero di essere stato utile un saluto a tutti grazie a tutti grazie a tutti